Salve a tutti maledetti, torniamo a parlare di cose che accadono sul tubo. Sì, Beyoncé, al secolo Livio Marcone, qualche giorno fa pubblica questo video sul suo canale, dove, facendo quasi il verso a YouTube fa cagare, lo accusa di aver graziato nei suoi video del format La falsità di Tyler Strike, esclusivamente perché i due, cioè YouTube fa cagare e Tyler, sono amici. Ovviamente li conosco, ho un ottimo rapporto con tutti loro, quindi parlerò proprio a prescindere da tutto. Andiamo con ordine, perché ci sono argomenti molto differenti da affrontare? Primo, Livio ha creato quel video in quella maniera perché voleva le views rubando il format di Simone? No, è evidente il suo tentativo quasi di prenderlo in giro, utilizzando il suo stesso format, facendogli soprattutto all'inizio quasi il verso. Secondo, Livio non doveva criticare Tyler? E perché? È un personaggio pubblico, fa video ultra visualizzati e tutti sono criticabili, nel loro porsi in pubblico, nei video pubblici che fanno, nei comportamenti pubblici, e sottolineo pubblici, più avanti capirete il perché. E quindi, appurato tutto questo, di cosa vogliamo parlare? Di qualcosa che mi pare sia emerso tra le righe, poi ditemi se sbaglio, ditemelo anche voi, i diretti interessati. Livio, in quel video ho visto dell'astio, a parte la prima metà dove sembrava più un asimo, stai a far paraculo perché Tyler è un tuo amico, eh? Che comunque non è un problema di nessuno, ma qui ci ritorniamo dopo. Ho visto proprio dell'astio personale, e guarda, sai che noi siamo persone molto diverse, ma non sto toccando la morale con il quale hai fatto il video. Anzi, quella è una cosa tua personale, il culo della ragazza, squallido. Per me invece era un espediente per mantenere il ritmo, alzando l'attenzione. Espediente sessuale? E quindi, io non ci trovo nulla di squallido usare espedienti sessuali moralmente, non meno bassi, di espedienti narrativi o spedienti nel montaggio stesso. Tyler ha fatto video dove faceva cose che giudici eticamente grevi? Beh, hai fatto benissimo a dirlo, sono tuoi punti di vista. Lo stesso Simone è molto morale nei suoi video, e fa bene ad esserlo perché sono i suoi video. Ma sul personale? Sul parlare di cose che vi siete scritti in privato? E non solo perché è illegale, no no, non solo per quello. Parlare in maniera vaga di ciò che ci si scrive in privato, alludendo a cose, a frasi, a comportamenti, a mio modesto avviso è un pochino scorretto. E non sto dicendo che lo hai fatto per cattiveria, perché in realtà tu sei asmodeo, figurati, un minimo ti conosco. Posso immaginare te l'abbia fatto perché alcune cose personali ti hanno dato veramente fastidio e volevi sfogarti in qualche modo. Ma siamo tutti d'accordo sul fatto che una critica ad un qualcosa di pubblico si può fare perché riduce l'analisi a ciò che è visibile da tutti ed è definita dall'autore stesso o comunque dal personaggio stesso. Quando si parla di cose private, semplicemente no. Anche perché ti sei incazzato perché Simone non ti rispondeva, perché Simone non ha fatto il video su Tyler. Ma ridicendo un po' tutto. Con tutto che lui stesso sa che i suoi video io li considero pur intrattenimento perculatorio, fatti molto bene, adattissimi soprattutto a questo momento storico del tubo. Ma saranno cazzi suoi. Ma che è la polizia? I carabinieri? La sagra rota? Ognuno nel canale, come tu stesso hai ben ricordato ieri, fa il cazzo che vuole. Se qualcuno si incazza perché io non parlo di un argomento, gli do una pacca sulla testa e lo lascio urlare da solo. Ma scherziamo? Cosa deve a te? Cosa deve a YouTube, Simone? Che, siamo diventati tutti filantropi d'un botto? Com'era? Qualcuno pensi ai bambini? No. Nulla. Nessuno. Deve nulla a nessuno. In questo caso ti sei incazzato perché con Tyler avevi trascorsi? Lo capisco. Ed hai fatto benissimo a fare un video tuo sull'argomento. Ma quell'astio soprattutto finale ha fatto notare, poi dimmi se sbaglio, sono miei pensieri questi qua, quindi tranquilli tutti quanti, tu ti sia infervorato così per altri motivi, non perché quel video fosse o non fosse fake. Ne esistono milioni di video fake, non mi sembra ti sia incazzato perché Simone non abbia fatto dei video su altre persone. Quindi lecito fare il video, lecito criticare, stiamo scherzando, e quindi perché Tyler si è incazzato in live ieri non mi sembrava neanche infervorato perché Livio ha parlato delle loro corrispondenze private. E quindi suppongo, se non ho inteso male dalla live appunto di ieri, perché è stato messo in dubbio un suo punto cardine di quel che riguarda il suo marketing, cioè la genuinità dei suoi prank, scherzi, cose pazze, chiamatele come volete. Ma è come se, prendiamo per esempio qualcuno che produce verdure bio, il produttore si incazzerebbe molto di più per avergli detto che quel che fa non è bio e non che i suoi prezzi magari sono più alti della media, perché il fulcro del suo marketing vuole che la differenza con gli altri produttori sia quel bio, quindi nel caso di Tyler nel non fare video fake. Gli insulti in live di Tyler sono scusabili? Bah, erano generici e non andavano sul personale. Un pezzo di merda o un vaffanculo lascia il tempo che trova, quindi a parte il parlare di volgarità, cosa che è assolutamente soggettiva, non mi sono interessato più di tanto, ha chiesto scusa, buona così. Ed infine, come sempre, non voglio entrare nella discussione è fake o non è fake il video, non sono cose che mi interessano, se fosse fake a me non cambierebbe nulla, proprio nulla, proprio perché i video io li considero come video. Una volta che io non sono presente sul posto e tu fai un montaggio, ciò che produci lo crei con il linguaggio del cinema, anche se riprendi la tua comunione, lo farei sempre scegliendo come farlo, quindi non esiste la verità pura in nessun video, proprio anche solo per il fatto di essere un video. Non entro nel merito se lui conoscesse quelle con cui stava parlando o non, mi interessa veramente poco. Raga, ammettiamolo però, YouTube ci dà sempre un sacco di gioia quando comincia l'estate. Grazie, beata noia. Bella a tutti, statemi scredamente bene. Il vostro, Viclave. Grazie a tutti.